Grazie a tutti. 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 Tutti buoni, tutti buoni. Adesso. Che fente? Stente o niente? Guarda. Tutti qua. Guarda. 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 E tu che hai da dire adesso? Ascolta, fai una roba... Guarda. Guarda, va al bagno. Guarda. Sì, va al bagno. Vai al bagno e tira l'acqua, tira l'acqua. L'acqua, avanzi, buttate le zacchetti e tira l'acqua a scena. La la, 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 la. Ma sentaia, ma dimettila. Che sent, che sent.